Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Masone Questa è la chiesa della Madonna della Capelletta Qua c'è il campanile Abbiamo tre campane che ora vediamo più vicino Tanto Questa chiesa, come ho detto all'inizio, è dedicata alla Madonna della Capelletta che sorge nell'omonima via Via Capelletta Adesso vediamo un po' il campanile Ecco il campanile con le tre campane Qua ne vediamo due Questo qua potrebbe essere il campanone E cerchiamo un modo di vedere anche la terza Comunque questo campanile è molto alto È una chiesa davvero carina Purtroppo che si è chiusa Ecco Ecco abbiamo avuto anche stavolta un po' di fortuna Come l'abbiamo avuta a Masone Dalla parrocchia alle tre e mezza Per fortuna anche qua Abbiamo tre campane in sol tre Questa era la sonata Ovviamente qua vedendo il battaglio La posizione della piccola Il campanone è di là È verso di là Questa è la seconda E di là c'è il campanone Vedendo qua la ruota della piccola Può darsi che vadano in piedi a Solenne Ambrosiano Bene, ora vediamo anche di vedere anche il campanone Eccolo qua Il campanone del santuario Della Madonna della Capelletta in Masone Quello che ha suonato le ore E se riusciamo vediamo un po' di panorami Eccoli qua Un po' di panorami sulle colline Di là Ci sono altri panorami Siamo sopra Masone Ecco, magari di qua potremmo riuscire a... Eccolo qua il campanone Una bellissima inquadratura Qua in questa chiesa Si celebra messa solo la domenica A quest'ora più o meno E niente, anche il campanone 2010 Anzi, per ora il campanone 2010 Ha filmato Il santuario della Madonna della Capelletta Di Masone A presto A presto A presto Grazie a tutti